Primo passo, avanzo col piede sinistro verso il suo piede destro, uno, e fatti giurare un po', al secondo passo vado su, con l'altra linea, al terzo passo mi porto qui, e mi porto vicino a vicinata, praticamente sono andato dalla sua parte, proietto che dove ero io. Allora se mi guardo a destra, uno, faccio le tre passi, due, tre, cucinata.